Musica Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova rubrica allora oggi sto preparando il Wrangler per fare un viaggio oggi voglio fare un po' di manutenzione tra virgolette straordinaria nel senso che chi ha un Wrangler o comunque chi ha un fuoristrada sa che il problema dei fuoristrada, forse andare in fuoristrada con la sabbia, con la polvere, con tutto hanno tendenza a surriscaldarsi sotto sforzo un vecchio meccanico mi disse una volta se vuoi evitare che si surriscalde ogni tanto lava i radiatori allora io non mi sono messo a smontare gli interi radiatori perché non ne ho voglia, non ne ho proprio tutte queste gran competenze però io ogni tanto faccio questo passaggio che vi faccio vedere serve per togliere, non dico tutto lo schifo, ma una buona parte di schifo e alla fin fine potete farlo a casa tranquillamente a me no, parlando di Wrangler potete fare a casa tranquillamente altre macchine magari potrebbero essere più complesse adesso vi porto con me e vi faccio vedere cosa serve allora, serve un compressore con una lancia piccolina qua dentro ci ho messo acqua è un detersivo dei piatti del Bennett ma potete usare anche lo svelto e una gomma dell'acqua vinta al banco di beneficenza e poi ho smontato questo che c'è un mio video precedente dove vi faccio vedere ma facciamo un raffrash veloce ci sono tutti dei pussoir che sono questi ecco qua, piantati qua fate saltare quello poi la prendete da sotto trungla sganciate e poi io ho isolato i contatti delle frecce in modo tale che non c'è nessun pericolo che vada a finirci acqua e tutto e adesso iniziamo con iniziamo a bagnare un pochettino il radiatore come vedete qua c'è un po' di tutto anzi se riesco metto anche un po' più dritto questa lamella qua e qua coi sassi vedete anche là sopra lo schifo che c'è perciò prima bagniamo il tutto una bella bagnata cos'è e già vedete un po' di schifezza andare via ok ora usiamo il getto sotto pressione col sapone ora dopo una prima passata con l'acqua e sapone diciamo io uso un prodotto che non sono sponsorizzato perciò non sto facendo pubblicità però Fulcron è uno super sgrassatore lo trovate in qualsi ferramenta io l'ho comprata qua in ferramenta sono trovata anche su internet questo qua mi sembra che costi 7 euro 8 euro massimo 10 euro allora è un sgrassatore abbastanza protente abbastanza professionale mettiamola così io vi avviso se avete dei radiatori verniciati come i miei che sono trattati con della vernice apposta nera questo qua nei punti dove magari ha preso la petrolina che è un po' scheggiata ha tendenza a togliere la vernice perciò non vi spaventate questo qua è un metodo che io sapevo che pulivano i vecchi radiatori dalle vecchie macchine perciò va bene tanto nel frattempo che quello agisce che ammorbidisce gli diamo una bella spruzzata con questo e poi aspettiamo nuovamente un attimo che il prodotto agisca poi gli diamo un'altra passata col sapone per poi un risciacquo finale va bene adesso andiamo a spruzzare eccoci qua ok si è rotto il pallino andatene bene perché deve entrare proprio bene in tutte le alette per un lavoro ottimale sarebbe la smontare questo però sinceramente come vi ho detto prima non ho né le capacità né la voglia di farlo ma puzza un po' perciò non è proprio fantastico da usare e poi anche la sotto ovviamente non pesca più perciò dovete girarvi dopo con un pennellino morbido io ogni tanto gli do una passatina così non fa chissà che cosa però serve per togliere le tracce quelle un po' più visibili un po' più esterne non spingete troppo perché se no rischiate di schiacciare le alette nel frattempo anche qua male non gli fa anche tutto qua sopra male non gli fa e fino a dove arrivate perché ovviamente non avendo smontato non arrivate ovunque ovunque mentre ci sono una passatina anche qua male non gli fa assolutamente tipo la sotto non ci saranno moscerini qualcosa è molto raro che ci siano moscerini però la polvere che arriva da sotto la macchina quello sì quello diciamo che è sicuro che c'è eccola tipo non ci arrivo col pennello perciò non diventerò pazzo ovviamente più smontate è meglio riuscita a pulire se poi vi mettete sotto adesso qua nel video non si vede ma vedete proprio lo sporco che scende questa cazzo è acqua piena di polvere è iniziato a malapena fare il primo pezzo di trattamento come vedete lei adesso sta colando ora do una seconda passata col sapona per poi finire con il risciacqua nel frattempo che aspettiamo che scoli tutto ho preso un piccolo cacciavite e ho cercato di raddrizzare alcune alette calcolate che sono aletti in alluminio sono iper delicate proprio perciò piano 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 se non vendono una specie di pettinini apposta per pian pianino provare a sistemare poi calcolate che nessun radiatore è perfettamente dritto forse la nuova poi dopo penso un centinaio di chilometri c'è solo il moscerino il moscone grosso che ha impattato un pochettino il segno me l'ha lasciato però di pronta che siano abbastanza dritte dove l'aria riesca a passare ora prendo la gomma dell'acqua e inizio a sciacquare ed eccoci qua finito allora se avete poi un compressore a disposizione come io in questo momento gli date una soffiata non dico lamella per lamella ma quasi fila per fila in modo tale che esca l'acqua perché magari può essere rimasta dell'acqua sporca dentro perciò una volta che evapora che il radiatore diventa caldo vi rimane lo sporco o magari anche solo l'insettino che era mezzo incastrato che però prima non si sarebbe mai tolto invece adesso dopo i vari trattamenti di lavaggio che abbiamo fatto rimane morbido perciò ve lo soffiate e lo sparate via allora questo è un lavoro che io faccio una volta all'anno più o meno a seconda di quanto uso la macchina ma una volta all'anno non è un lavoro completo cioè non è un lavaggio completo premetto questo perché allora se voi avete problemi di surriscaldamento prima di andare a cambiare il radiatore una cosa o l'altra provate a fare questa procedura qua io consiglio anche quando andate a lavare la macchina buttatevi alla lancia anche solo un gettone intero buttatevi alla lancia attaccata ai radiatori perché serve proprio per pulire 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 poi ovviamente la lancia e quelle dell'autolavaggio hanno più pressione di questa e comunque la temperatura tipo invernale è anche calda perciò magari aiuta di più a sciogliere io lo faccio probabilmente sempre e ho risolto perché anch'io intanto aveva tendenza in salita non dico surriscaldare però a scaldare un pochettino da quando faccio sto trattamento qua una volta all'anno perciò io l'ho preso nel 2016 dal 2017 ho iniziato a farlo non ho mai più avuto un problema poi se avete problemi gravi andate ovviamente da un meccanico il meccanico se trovate quello onesto magari vi smonti i radiatori e prova a lavarli lui comunque vede in condizioni sono e prova a lavarli lui se trovate quello che è buon plug-in chiamiamolo così il meccanico plug-in prende cambio e mette radiatori nuovi sono di gente che mette radiatori supplementari interclui supplementari per carità male non fanno però prima di spendere soldi di fare queste cose qua io proverei a fare questa tipologia di trattamento io adesso ho usato il liquido di piatti perché sinceramente avevo quello ma anche perché il discorso che è un liquido delicato fa molta schiuma come avete visto fa molte bolle e comunque sgrassa perché se lo sgrassa i piatti figuriamoci un radiatore poi il fulcron aiuta parecchio occhio solo nelle parti in plastica sciacquatele subito dopo perché ha tendenza e quando asciuga a lasciare delle macchie io ormai il paraurti qualche macchiorina c'è ma non è di fulcron perciò con gli anni con le piogge con i lavaggi comunque va via però capisco che magari uno ha la macchina perfetta da vetrina e gli gira un attimo le scatole avere la macchia lì sopra il restante che dire ah se vi venisse mai la brillante idea di dire adesso ho lavato tutto ho aspettato che si fosse asciugato tutto e ho il radiatore che ne so opaco piuttosto che con quei segnettini che vi dicevo che lascia il fulcron che toglie un po' la vernice ho una bomboletta lì prendo il vernicio magari prendo anche una bomboletta a quelle alte temperature quella a 800 gradi no no perché è una voglia che viene perché a me è venuta parliamoci chiaro ma no perché qualsi bomboletta che usiate non è la tipologia di vernice ma qualsi bomboletta che usiate crea un film tra virgolette protettivo sul sul metallo che voi direte è una cosa figa calcolate che quel metallo lì quell'alluminio lì quelle leghe lì servono proprio per dissipare il più calore possibile gli passa dentro l'acqua l'acqua viene raffreddata dall'aria mentre andate avanti e dissipa il più possibile se voi li verniciate ha tendenza a dissipare meno o a prendere diciamo meno il fresco dell'aria concedetemi il termine non tecnico in più se voi verniciate in maniera abbondante rischiate di tappare gli spazi che ci sono tra le lamelle e quegli spazi lì è quello che serve proprio per far passare l'aria per far funzionare il tutto se voi li tappate oltre che avete appena lavato per togliere la sporcizza dentro se voi li verniciate e li tappate la macchina surriscalda per forza di cose viene da farlo anche qualche scritta carina ho visto gente che fa le scritte carine figo fighissimo io personalmente ho calcolato che uso la macchina nella mia una daily car perciò io la uso ogni giorno una roba leggenda non lo farei ma neanche su una macchina che uso solo una volta a settimana non lo farei rimane brutto ce ne faremo una ragione cioè piuttosto se proprio avete comunque tra virgolette la possibilità economica di farlo cambiate il radiatore però non non vi mettete a verniciarli per cortesia questo procedimento qua io adesso l'ho fatto sul wrangler perché nel mio caso ho un wrangler perciò utile perché chi ha i wrangler sa benissimo che il radiatore è davanti così col mascherone che non protegge nulla si riempi di schifo va bene su qualsiasi macchina anche macchine vecchiotte anche magari avete che ne so la macchina come quella di mio padre il coupé del 99 ovviamente con gli anni quello non fa fuoristrada però con gli anni si intasa di moscerini mosche farfalline polvere magari avete davanti a voi il camion della terra perciò tira giù la polvere è normale fa tagliare la passata ogni tanto così ovviamente sul wrangler è un po' più semplice su altre macchine un po' meno sto pensando al coupé di mio padre dovrei tirargli giù per a urti però fatelo in più questo procedimento qua oltre a proteggere e allungare magari la vita del radiatore e del motore stesso vi aiuta anche un attimo a buttare l'occhio perché voi dovendoli lavare così accuratamente vedete se sono pieni di pietra che magari avete prese la ghiaiata da qualcuno oppure se ci sono delle crepe se ci sono magari tante alette piegate e perciò è anche un modo per avere traviate il vostro mezzo sotto controllo che male non fa buon ragazzi spero di essere tornato utile a parecchi di voi non solo chi ha il wrangler e ci vediamo alla prossima puntata di questo obbligo la prossima avventura non lo so perché non programmo nulla ok dai ragazzi alla prossima ciao ciao